Negli episodi precedenti di Alone in the Dark I Venere plasmeranno la serratura della porta Mentre Marte combatterà per riportare la chiave nel nucleo Dunque pare che esista un secondo medaglione Deve essere la chiave che cerchiamo Gli occorrono entrambe le pietre a termine della via della luce La persona che riuscirà a completare la via della luce Dovrà compiere una scelta cruciale per l'intera umanità Questa persona evocherà il portatore di luce Come le persone, Central Park nasconde dei segreti che dovrai esumare Alcuni letali, ma uno di essi può saltarci Allora ragazzi Bentornati sul canale Gaming Now E continuiamo il gameplay di Alone in the Dark Dunque Abbiamo sbloccato la visione spettrale fino al 50% Distruggendo altre radici oscure sparse per Central Park E così siamo riusciti a entrare nella Diciamo Un luogo segreto Che nasconderebbe la chiave per la via della luce Dunque proseguiamo Allora Gli troviamo in una grotta sotto Central Park Oh guarda qua Dovrebbe essere il simbolo degli alchimisti quello Ok Scendiamo sempre di più con il nostro Edward Questa caverna sembra essere immensa Ok Qua c'è un altro film Dovremo utilizzare Questo immagino No Sì Ah Abbiamo attivato un meccanismo E mi sta portando sempre più giù nella caverna Ok Che è successo La torcia si è bloccata C'è un fascio di luce qua Che sarà mai Ecco Ecco Sembrerebbe che bloccando il fascio di luce si aprono le porte Wow Meccanismo interessante Continuiamo il nostro percorso Scegli giù Oh Un altro fascio di luce che dobbiamo bloccare immagino Sì Ok La torcia non va Ecco 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 Grazie a tutti. 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 Stiamo andando proprio... e... complicati... Oh... e... e... minchia... e... ... 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 andiamo ecco? il soffitto ah oh No, ho sbagliato. Ok, forse ho capito.